Ciao, io sono Cristina, ho otto anni, allo zecchino canto Mille Scarpe. La mia canzone parla di infilarsi nei panni di qualcun altro. Per esempio, tu hai un amico che quando viene a giocare con te è molto felice e dici che è beato, però forse a casa è triste, arrabbiato, non so. Entra dentro Mille Scarpe, in ogni scarpa imparerai. Che ognuno ha la sua storia, con i suoi sogni e con i suoi guai. Non giudicare le persone senza conoscerle veramente. La mia famiglia viene dal Camerun. A casa siamo in cinque perché c'è anche mio cugino, mia sorella, mio padre e mia madre. Da grande vorrei fare la cantante. Perché una volta ho fatto dire mia madre, avevo cinque anni, dai, ascolta. E poi ho fatto sentire la mia voce. E la mamma era, che cosa? Mi piace fare amicizie con gli altri e anche giocare. Però la cosa più bella che mi piace fare è disegnare. Non mi piace essere sgridata. Mi diverte l'Antoniano. Ogni giorno sei a conoscenza di un amico e anche di altri amici. E sei molto felice. È molto brava come maestra. È bassa, bionda e si veste sempre bene. Bologna è grande. Ieri sono andata a visitare la Torre degli Asinelli ed era bellissima. Solo che avrei voluto salire. Però c'erano un sacco di scale. C'erano due torri alte. La mia scuola si chiama De Amicis. È molto bella. Ho fatto tanta amicizia con i miei amici. Sono molto bravi. Alcuni no. Ma le maestre sono sempre orgogliose di tutti noi. Io sapevo che all'Antoniano voi aiutate della gente che non può mangiare, non ha dei soldi per comprasse da mangiare. Alla mia mamma scriverei quanto le voglio bene. Per me il Natale è la nascita di Gesù. Vi aspettiamo al 63esimo Zucchino d'Oro.